Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio Onnipotente e Misericordioso, che hai concesso alla Beata Maria Luisa, Vergine, la grazia di imitare Cristo nel servizio dei poveri e dei malati, concedi a noi che col suo esempio e con la sua intercessione, in fedele adesione alla volontà del Padre, e nel sollecito esercizio delle opere di carità. Meritiamo di aver parte tra i benedetti del Tuo Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Beata Maria Luisa. Pregate per noi. Sì. Grazie.